Oggi siamo in Toscana E dove andiamo? Questo non lo so Neanch'io ci porto a Dani Comunque buongiorno a tutti bentornati sul canale Era un po' che non facevamo video Siamo partiti ci aspettano quattro giorni in Toscana Ci sono tanti bambini Siamo con il Genova Fuoristrada come al solito E ci accompagneranno anche altri due club che poi vi presenteremo più avanti Andremo a visitare anche le cave di Marmo E non vedo l'ora Ciao ciao Ah ci siamo dimenticati una cosa Regalateci dei like per questo video E scrivete nei commenti Se siete già stati alle cave di Marmo della Toscana Ragazzi ci siamo? Ah ragazzi guardiamo Ci abbiamo un pezzo di statale Subito ci mettiamo tutti già incolonnati Per come dobbiamo poi essere dopo Sempre guardate quello dietro Se non c'è quello dietro fermatevi Vi prego vi scongiuro Anche perché ci sono 400 Guardate quello dietro che ci sia Ci sono 480 incroci Se ci perdiamo possiamo andare a girare E andare tutti a casa Ci allungheremo sicuramente Saremo oltre due chilometri di colonna Partiamo con davanti lui Mi ci attacco al culo io Dietro di me ci saranno i Cimi E il Toyota Adesso facciamo 6 chilometri più o meno di asfalto Vabbè poi facciamo un pezzettino di strada bianca Lo sgonfiamo Quando arriviamo poi su un piano Ci fermiamo lì Sgonfiamo Così avete anche un po' di bella vista Lì poi c'è da decidere C'è da fare una variantina Un pochino più carina Chi la vuol fare Se no c'è taglio dritto Per le macchine diciamo più di serie Mi eviterei più che altro Anche perché all'inizio c'è un cestulione grosso di rovi C'è da piantarla nella fiancata Quindi è un po' antipatico Ci passa Dani Allora in uscita dal parcheggio Si va a destra Ripeto si va a destra Allora siamo con i ragazzi del Sarzana fuoristrada E siamo un sacco di macchine Questo primo giorno di giro Toscana Toscana Oggi vediamo dove ci portano Forse beccheremo neve Si perché può darsi Magari Ieri c'erano 45 cm di neve Vediamo Ci vediamo dopo Ciao Allora dopo la bella vista Si scende un pochino C'è una piccola S Si continua sempre sullo sterato principale Dentro le ginestre Si passa attraverso due piante di ginestra Guarda 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 Mimba Mimba Non devi se sguardi Stiamo a chiaccheremo Sono con un po' rientra In d'acqua Anche a mia mano Quella idea Non fate apposta Ma è la vita Secondo Jimmy Ti seguo Grande Grazie fratello Mi portarlo a un fondo Il G- Ma vai per merda Si quel G- Che ti ho C'hai Fatte cose Che tra un po' Non riesco a fare io Con le tre Ma culo Si Che rumore Che fa È bello Che fai Anche a me Ha l'idea Che ti squagli La capota Eh ma Che c'è del nido Mi metto in movimento Mi c'era Guarda che buco La capota va devi spostare la macchina tutto di qua, così, bravo, a posto vado a passare io, se vado nella buca sotto sotto Giancarlo fermati qua, vai avanti ma grande, te la puoi già fumare la sigaretta ma un metro avanti vai 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 ma si, era un po' di brivico oppure assomigliava alla voce di Fabri oppa è andato troppo assomiglia scolta stasi si vabbè che bella scavalizzata eccolo lì è andato è andato Grazie a tutti. Grazie. Mi suonano. Io l'ho detto, Monika arriva. Ok, quindi, volcate tutti a sinistra e poi di nuovo su asfalto in salita a sinistra. In salita significa neve. Guardate che tolgo le ridotte. Sull'asfalto a sinistra, per chi non avesse copiato. Alua. Manca gente. L'asfalto a sinistra? Zappa. Massi, quando sei sull'asfalto devi andare a sinistra. La mano quella verso il finestrino. Vabbè, sull'asfalto a sinistra, eh? Poi è molto iniziato lo sterato da Y a sinistra. La strada è una. Seguite sempre lo sterato principale. La strada è una. La strada è una. Bello, eh? No. Ma quando stiamo andando vive? il comune di Rocchettavara madonna che bello il gym di Emy bellissimo quando andiamo in una neve? ci siamo andati non hai vista la neve? mi sono gelate le orecchie mi è venuto mal di casa guarda gli alberi sta da un'ambulfera guarda quanto andiere c'è c'è ancora quel buco? no perchè ha perso la targa a sassello e glielo avrebbero dato a lunedì a sassello ci c'erano una volta a pescoletta ci siamo agganciati qualcosa al sogno uno strano a pesca a pesca a pesca a pesca a pesca a pesca arrivi a pesca a pesca a pesca a pesca non guardare Non guardare Non guardare, vedo che chiusi Non guardare Ce la fai Matte? Oh, non vedo niente Non guardare Non è ignorante No no In lave, in lave, in lave In lave, in lave Vieni, gira Pianino, eh Piano, falla scendere Grazie Bravissimo Devi No, stanza, stanza, stanza Dall'altra No, no, così Stanza tutto Stanza tutto Piano Piano, piano, eh Piano, piano 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 Dritto, ruote dritte Non vedete mai dove mi trovi È vero Piano Piano Fala scendere Piano Non vedete E Aspetta un minuto della plastica Con adesivo, eh E no, con la saldatrice No, ma il baffetto l'ha già rotto Lattolo lì Sterza, sterza, chiudi chiudi Non troppo non troppo vieni un po' indietro Adri si aspetta fai una cosa scendi un attimo guardatela bene davanti così almeno ti rendi cura per andare davanti Adri perché ti tiro ma ci sei anche te mia moglie mi ha detto io ti conosco vai grande dritto destra dritto drizza qua piano pianissimo vieni pianissimo un po' più piano oh 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 vai dritto vai dritto perché c'è a dritto perché c'è a sinistra però la gare guarda la sinistra 4 il parauti è un 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 parauti il rumore era come che aveva agganciato su dove mette la ruota tanti giovani secondo me un pochino più a destra Dani gira leggermente qua da me ma li parauti o no? no no vai avanti mi sono apportato massi voi ok vai perfetto vai 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 ok vai sei uscito guarda adesso drizza un po' ora scende ora scende ora scende prendi la mano vai che li provi vai che adesso sei appeso gli diamo una spinta stai lì per sbaglio li hai attaccati? stai lì ma fanno provare stai lì stai lì ho sbagliato la stai lì ho sbagliato prendi la cattola freni e accelera insieme freni e accelera 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 dai ormai sei fuori sinistra sinistra si la gomma molto molla perfetto sei andato vai ok bene ragazzi per oggi è tutto come al solito mettete like iscrivetevi al canale attivate la campanellina che usciranno i nuovi episodi di girovagando in Toscana ciao ciao magari qua ci sia albergo siamo arrivati al campeggio marina 3b bellissimo mega pineta è grande qualcuno ci dirà dove andare ora parcheggiamo le nostre 180 mila macchine ciao 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 ciao